ciao a tutti sono alessio 19 8 170 altro gameplay di uncharted 2 via dopo aver trovato il pugnale andiamo avanti qua devo fuggire a questo posto che andiamo seguendo clore insieme a sally io vado a vedere se c'è via libera sì e io attendo se attendo boom dove dove salgo su ecco filmato clore avanti e poi no ecco stronzo molto coraggioso per uno che ha passato gli ultimi tre mesi dietro le sbarre meglio che cazzeggiare tre mesi nella giungla senza alcuna idea ho trovato le navi no? non ti troveresti nemmeno il culo senza il gps sono venuti fuori da qui da sotto Harry guarda qui visto? parlando di mappe eh Harry tra l'india e il tibet eh un tempio indicherà la via per Shambhal ah prima della pensione eh e dai non essere così antipatico portali dalla Zarevich rimpiangerai la prigione amico avanti e lui che fa? eh scende forza camminare ecco scusò ah fregati oh oh renderai il tutto più credibile cercherò di guadagnare un po' di tempo claude claude di venire oh rincontriamoci in né parte ora vai si andiamo andiamo col pugnale si immaginato si andiamo via col pugnale via 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 corri ci hanno visti via via oh comincia a sparare no oh pezzo di merda becca di questo torri di ciò rivederci e adesso arrivo stanno sparando cazzo via ora che facciamo beh saltiamo aspetta ragazzo sei andato fuori di testa ci spezzeremo l'osso del collo ci prendono sarà l'azzare vince a farlo sono vecchio per queste cose e sai coraggio non ricominciare senti io non sono io lo so quando faccio il passo più lungo della gamba sally dobbiamo cavarci ok ce la facciamo tu vai dalla tua donna in nema io resterò al caldo coraggio ehi vi racconterà il tutto quando torni andiamo prima di un capo vediamo bello e si butta o anche lui sono buttati fregati ecco in città quando hai detto che l'azzare vi c'era avanti a noi è stato aiutato dai politici locali la città è stata avverata il risultato della guerra civile mi ha fatto buttare un po' di rompia per fuoco ah ok già non è col canto intorno ha vittorato indiprobato la città cercando il tempio giusto eh ci sei? si sono qui si non dirmi che c'hai ripensato? no chi io? noi sai perché voglio proprio barazzarti di quei pagliacci hai la mamma? ehm si incontriamoci a vecchio mercato la situazione è calma ma c'è ok va bene oh cazzo lì ho un furgone mio oh ma non è dato ho pensato che sia troppo tardi per farlo eh si boom è veloce sono stato meglio si ancora boom è pedda la ruota oh ahia uh che botta no 5 guerriglia urbana ce li trovo in nepal c'è scritto oh ahia no no eh pa ahia uh che culo no 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 che cazzo eh si uh ui valini no e crepa pezzo di merda oh ho finito i colpi via 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 uh che culo cazzo la prima volta che perdo qua cazzo la pistola meno male se no me lo secco va avanti ok eh il vecchio mercato dove saldi qua si trovatelo oh merda dai cazzo dai cazzo dai 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 oh cazzo è qui da qualche parte quanti sono tenete gli occhi aperti qua è un disastro che cazzo è un pullman un pullman finiamo lì metta il riparo piuttosto cazzo oh 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 se mi beccano cazzo cazzo di là no peccato pezzo di merda di qua cazzo dove è dove è dove è dove sei dove sei non mi colpisci non mi colpisci peccati questo oh bellissimo colpo alla testa non colpe peccati questo e di ciao e di ciao e di ciao e di ciao e di ciò e di ciò e che sapore ha ora bisogna solo trovare Claude si con munizioni qua qua munizioni munizioni ganata trovo eccolo e dove bobotta del gas allora di qua cos'è il fall l'unità precisione ottimo fantastico che esplosione dovrò trovare un'altra strada si e come allora si sono partito da qua vediamo un po' dove posso andare no qua no no qua no scala ah ecco 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 qua di là attaccare quel tubo blu perfetto i muri i muri ah super autobus perfetto scalcare un muro si salto di qua ahia 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 no uh è andato il palotto di è di qua uh salto uh che culo lampada è andato ahia 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 disastro oh ma tutto distrutto va il parcheggio ah ecco va il parcheggio uh occhio a quei libri uh che culo dai qua ah niente che volevo andare ah qua su una guardia attenzione beccati questo e di ciao arrivederci un colpo solo andiamo di qua punizione ottimo ma doveva andare cazzo ah il palotto ahia 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 molla ok qua oh ahia ahia no non mi trovate stronzi oh un asse di legno ok è andato cos'è la magnum ma pochi colpi no tengo la pistola ok qua giù perfetto oh oh più di soldati adesso li dovete prendere eh e e e di ciao rivederci in un colpo solo cazzo cazzo merda merda si oh oddio no e di ciao rivederci cos'è munizioni aspetta e qua e di questo oh oh si di ciao rivederci cazzo e di questo oh si un trofeo perfetto aia dove sei ah sei la esci fuori oh si da lunga distanza benissimo un'inizio che cazzo esci fuori esci fuori esci fuori oh si fantastico alla testa ed è qua un'azione un amico ma sono un tiro dov'è 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 eccolo eccoli da mi vedo eccati questo toh e dite ciao arrivederci ecco un ventaglio di capelli anche tu no uno uno scudo adesso che ti prendi tu con quello lo scudo di merda un braccio dai dai pistola cercati questo dai ai ai muori pezzo di merda oh si adesso no uuuu miiii che granata che gli ha tirato qua micro 9 mm scudo munizioni inizioni adesso cazia mai beccati questo anche voi tu e di ciao rivederci dove sei forza beccati questo oh si ah dove sei dove sei dove sei avanti uscite fuori eccolo ci vedo ci vedo stronzo e di ciao rivederci ho qua la testa proprio cos'è qua oh munizioni bellissimo cos'è altre munizioni bellissimo una pistola con la bombetta che cosa ne ne faccio fucile a pompa lo prendo in prestito senza di scatto oh cazzo no 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 uuuu fatti qua aiè i barini i grandissimi barini anche questo oh si oh si anche questo no no cazzo oh si esploso ce l'ho fatta filmato ah è stata Pare che io debba sempre salvarti il culo Beh, si vede che il mio culo se lo merita Ah, ecco È un antico pugnale rituale tibetano, quello che hai in tasca? Sì Forse sono solo felice di vederti E così, è questa la chiave di tutto? Sì Esatto Il passaporto di Marco Polo per Shambhala Come lo usiamo? Ah, io non ne ho idea, veramente Ma so che la Zarevic non andrà molto lontano, senza Io non lo sottovaluterei Lui e Flynn hanno devastato questa città e avranno già distrutto dozzine di templi Cosa facciamo adesso? Nei Odio quando fai così Guarda un po' qui Vedi il simbolo? Sì? Eh E guarda lassù Ok, vi do la somiglianza, ma cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo come Marco Polo trova l'indizio successivo Ah Il tempio che cerchiamo dovrà riportare questo emblema Quello che ci resta da fare è trovarlo E dove? Ma ti rendi conto che ci sono perlomeno centinaia di templi del genere in città? Sì, ma se noi potessimo guardare la città da lato Potremmo scovare il lago nel pagliaio Esatto Eh C'è un eterno lontano da qui Non mi sembra il momento È probabilmente l'edificio più alto della città Sì Ah certo Ok, è una bella idea Seguimi Ok Ecco, seguiamola Cos'è? No Ci sono due fucile a pompa qua Vabbè, qua Ci sono le lavatrici rotte La canta, ole La canta Niente da fare È bloccata Eh Aspetta qui Vedo se riesco a trovare un passaggio È dove? Aspetta No Cazzo E dove lo trovo? Aspetta Andare a sopra Ah Aspetta cosa c'è lì? Fall Non mi serve Ho il fucile Ah, ecco come Ah, ecco come lo fare Opla Di poco Emo là Ecco No Il cazzo deve andare Ah, di qui ho capito Ottimo Ho trovato la strada Ehi Da qua su riesco a vedere l'hotel Sì Lo so, siamo qua Sì Emo Ah, ecco Opla Ah Ecco come devo passare Oh, oh, oh Opla Uh Uh Perfetto Questi aquilotti Via Che è arrivato Il balcone Palotti Uh Uh Cadi Che grazzo Che diavolo Oh Addizione Si stronzi Cazzo Perca di questo Oh, sì Oh, sì E dite Ciao Arrivederci Percazzo Dove sei? Dov'è? Ma cazzo Non provarci Eh, infatti Affanculo Ossia Abbraccio Ossia D'affanculo Perfetto Dove sei? Eh, stronzo To E di ciò Arrivederci Perfetto Uh, una granata Una granata Aia 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 Cazzo Dove sei? Dove sei? Cazzo Dove sei? Eccoli To E di ciò Arrivederci Ho finito i colpi Qui C'ho qua C'ho la falla Dove sei? Eccolo E di ciò Arrivederci Boom Caduto Cazzo Dove? Dove? Eccolo To E di ciò Arrivederci Adesso Ah, sei Costro To E di ciò Arrivederci Cominciamo Sì Ci sono Munizioni Dove sei? Dove sei? Non ci sono più Stronzo Pezzo di merda Oh sì Adaffanculo Adesso arrivo Boom Perché Ah il lucchetto Ecco il lucchetto Si apro Ecco fatto Vai indietro Munizioni Boom Beh Come ne siete occupati voi? Eh sì Andiamo ad qua Dammi una spinna Posso arrivare a quella scala Sì Sì Etta Un attimo Allora E' la scadetta Ma che Ecco qua Acqua Su Ok E' un peccato Sedersi sopra un tale splendore Ecco Eccoci Non dire che non faccio niente per te Ah è vero Come la parte 1 Qua su Aspetto Andiamo di qua Seguiamo Oh L'assi di legno Di spacco 1 2 3 Rotti Una cazzata Munizioni Qua 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 Invece Porta Di qua Rompi 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 Un grande Drake Ok Quando vuoi Quando vuoi Ah E' c'è sto cavallerico C'è sempre speranza Chiedi di farla Sì Di qua Uuuuh 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 Parili Sì Grandissimi Parili Sei Tempi bui Sembra che per la resistenza le cose non vadano bello Eh No Da scendiamo Boom Filmato Oh Pieni stronzi Non mi piace per niente No Eh No Penso che dovremmo Arrivare all'hotel per altre vie Evitare tutta quella gentile Eh sì Uuuuh Uuuuh Scusa Hai anche un piano oltre alla granata Sì ce l'ho Lì a giro da questa parte E gli rovino la festa Sì Uuuuh E non dimentichi qualcosa E' vero Mentre in scena tu tesoro Devi occuparti di lui Ma fallo In silenzio Non in silenzio Sì Ma sei proprio sicura Sono tanti bui Eh sì Ma che cosa vuol dire Ah boh No Volevi sapere che è te Uuuuh Devo farli fuori Allora 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 Anna di Aia E' quel pieno zeppo Di stronzi Di stronzi Allora Allora Lo fanno in silenzio Allora Uno ce l'ha Pegati questo Pegati questo Tac Si vede Sì Si vede sì E di ciao Arrivederci Un andato Un altro E là sopra Accidenti Non devi beccarmi E di ciao Arrivederci Boom Così Così Un RPG Lo so Cazzi amari Dite Ciao Arrivederci Anche tu E di ciao Arrivederci Uuuuh Aia Cazzo Va bene Cazzo Adesso E te prende Oh sì Oh sì Perfetto Oh sì Ad affanculo Cata O tu con lo scuro di merda Pregati questo Granata Granata Non c'è una granata Dov'è? Eccolo Granata Aia Bastardi Dai Prenditi Dov'è? Cazzo Dov'è? Eccolo Oh sì Uuuuh Bastardo Il tuo figlio di puttana Mi sorprendete Quanti sono Qua c'è la K La di la K Oh sì Oh sì E dite ciao Arrivederci Dov'è? Ecco l'altro Atta Atacco Boom Gli è esploso proprio Cazzo Dov'è? 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 Ti vedo Ti vedo Cazzo fai? Esci fuori Oh sì È andato Condizioni Condizioni Oh pezzo di merda Vieni qua Oh sì Perfetto Dov'è? 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 Stai sparando No Ci sono più Perfetto Via Uh Fucile a pompa Vino Mio 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 Ci sono Hzz Di Guarda Dov'è stai? Dov'è stai? Dov'è stai? Dov'è stai? Ah beccati questo si dirà cazzo prega di questo un cazzo poi per prendere stronti di posti o si o fantastico così fatti fuori, adesso non ti hai una canata addosso a questo stronzo prega di questo e di ciao a rivederci continuo ad arrivare, ahia inizioni cazzo, prega di questo, uh perfetto e voi, prega di questo oh si, vaffanculo oh stronzo, hai capito, uh fantastico dove siamo? toh, e di ciao a rivederci tu, bastardo tu, stronzo vaffanculo oh si, perfetto già questo deve essere l'ultimo si, uh fucile, fucile ora troviamo in modo possibile si, e come amma mia che è il combattimento eh? dove? dov'è? aspetta dov'è? ecco è e dove devo andare ah eccola di là è venuto il peggio accidenti è l'unica cosa da fare spingili su si ecco vai ecco si si ce l'ha fatta boom ok andiamo ok finora via libera c'è un altro modo per entrare non da qui e dove? ah da quei palotti si oh se ok molto ingegnoso eh si dai oh guarda lì no cazzo brutti palotti stupidi allora di qua di qua ah adesso ci sono ok ci sono oh che ha fatto c'è la carpa tutta la gatta si oh cazzo oh cavolo uno c'è il giubbotto antiproiettile no peccato si distrugge tu ti rompo l'armatura oh si è andato a fanculo oh si e di ciao arrivederci cosa vedi oh il fucile grazie dentro l'ascensore filmato eccoli cosa questo questo non ci voleva eh hanno colpito un generatore eh vediamo un po' vai no vai no niente da fare devo sistemarlo per tirarti fuori ce la farai ah si peccato non abbia nulla da leggere ah ahia sembra che l'interruttore sia all'ultimo piano aspettami qui ci penso io si niente corrente è una ragazza intrappolata eh manca uno zombie dietro l'angolo e siamo a posto eh si boh posso anche fermarmi qua dai la prossima parte da lì la tiro da fuori l'ascensore boh niente mi fermo qui prossima parte come ho detto prima la leo ribala nell'ascensore poi andrà avanti qua come diceva bene quindi quindi vi dico che finisce qui il gameplay di uncharted 2 quindi un ciao da alessio 19 870 al prossimo gameplay